Il primo tempo è stato un po' equilibrato con una leggera supremazia da parte del canale che io ritengo una buonissima squadra con ottimi giocatori che conosco un po' quasi tutti. Diciamo che la cosa che mi ha entusiasmato di più è stato proprio il non arrendersi alla sconfitta e di una reazione della mia squadra che il secondo tempo c'è stata una supremazia proprio netta perché abbiamo creato all'incirca 4-5 occasioni da gol nitide. Ma quello che ho detto ai ragazzi è inutile fare programmi a lunga scadenza noi andiamo avanti partita dopo partita cercando sicuramente di scendere in campo e di cogliere il massimo poi a volte ci riesce come oggi, a volte no. Quindi dobbiamo accettare un pochettino anche il risponso del campo. Purtroppo le partite si giocano su due tempi, su 90 minuti. Noi le abbiamo giocate soltanto su un tempo, 45 minuti, abbiamo dominato il primo tempo in lungo e largo abbiamo avuto almeno 4 occasioni l'imbide davanti al portiere così come possono testimoniare le immagini. Abbiamo avuto la colpa di non chiudere la partita al primo tempo, l'abbiamo chiusa soltanto l'1-0. E' molto riduttivo rispetto a quanto si è visto in campo. Ciò nonostante poi siamo andati nel secondo tempo e lì un pochettino ci siamo persi. C'è stata una predominanza a quel punto della Kennedy che ci ha schiacciato per alcuni tratti della partita noi avevamo tenuto inizialmente il risultato, poi a un certo punto sono riuscito a guantare il pareggio e noi là abbiamo vissuto un blocco probabilmente psicologico che ci ha visto alla fine uscire perdente da questa partita. Onore alla Kennedy che nonostante da questo campionato sembrava non avesse nulla da chiedere è venuta qui invece con tutti i crismi a giocarsi la partita, l'ha fatto con onore e orgoglio, porta a casa questa vittoria. Noi dall'altro canto rimaniamo in zona playoff e adesso sarà importante difendere questa posizione e poi poterci divertire in zona playoff. Il prossimo turno andiamo a Santa Saverina e contiamo di riscattarci immediatamente. Le sconvitte quando arrivano dobbiamo cercare di ottimizzarle perché piangersi a dorso non si è avveniente dobbiamo trovare la forza da queste sconvitte e capire come ritrovare un passo all'altezza dalle prime cinque posizioni. Io e i ragazzi invito a stare calmi, perdere la partita ci sta, rientra nella situazione di gioco. L'importante è che adesso ci concentriamo su un riscatto immediato. L'importante è che adesso ci concentriamo su un riscattamento di gioco.